Nuovo ciclo di conferenze alla Biblioteca della Regione dedicato alla crisi economica e al consumo consapevole. Dopo il primo incontro con Maria Cristina Martinengo su consumatori e apprendimento nella crisi, segue il 6 novembre quello con Oreste Calliano e Federica Bombardi sul rapporto tra giovani e denaro in tempo di crisi. Mercoledì 13 novembre Matteo Vittuari interviene sull'alimentazione e risparmio di energia, una nuova prospettiva. Vogliamo valutare l'impatto della crisi sulla trasformazione dei comportamenti del consumatore e ci occuperemo di questi cambiamenti ipotizzando due possibilità, o che dopo la crisi effettivamente cambi il modello di consumo oppure che questi comportamenti costretti, indotti dalla crisi, siano successivamente reversibili e si torni al modello di consumo degli anni dello sviluppo.